Vado a scappare di chi c'ha niente? Eh, a 9 e mezza Mi sto dicendo... Vedi fai le mani? No, il conto Vabbè, tra i due litiganti... No, io potrei pochi chissi No, vabbè Stanno acchiappando per i quappavari oggi, no? Rendetele conto che oggi stanno litigando per i quappavari Soprattutto il tuo conto che non pava mai la sua vita Hai capito? Allora, allora ci è Ma aspettate, aspettate che ci andiamo Stanno pavando? Non ci può succedere Ormai sono diventato ricco Ma tu ci vai a Dubai? E a dubbi da pasta con l'uomo A Dubai ci vai io? No, vabbè Comunque sta pavando il conto, ci credete? Sta pavando il conto, guardate, guardate 13,90 13,90 Sare che gliel'ha rubato questo conto Ma io ho toto, ho due bozzelle 15 euro Ma io ho toccato Ma lei non sa pavano per davvero io Ma io ho toccato Spattaci sta signora, 15,90 Perché lei chi ne ci? A che... ma che diventa un scepo a poco